Ciao, io sono Federica De Paulis e sono qui per parlare da parte di madre in un'ultimo romanzo, edito da Feltrinelli, è la storia della relazione con la mia mamma è un libro ambientato a Roma negli anni 70, 80, 90 è una storia particolare, come forse ogni storia con il materno lo è è un libro che fa ridere, è un libro che fa piangere e io sono molto contenta, il libro sta avendo un consenso io ricevo moltissimi messaggi di persone che mi ringraziano che mi dicono che si sono ritrovate dentro questa storia che hanno capito anche delle cose di loro questo mi dà un'enorme, un'enorme gioia perché significa che avendo raccontato una mia esperienza qualcosa di piccolo ho incontrato l'universale che poi è appunto il rapporto con il materno e chiudo dicendo che parte dei guadagni di questo libro sono devoluti all'AIRC che è l'Associazione Italiana della Ricerca per il Cancro e vi auguro una buonissima estate, vi auguro una buona lettura e vi abbraccio tutti, grazie 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 grazie